Ciao, approfitto di questa lunga camminata perché mi è venuta un'ispirazione proprio mentre camminavo per te. Spero che tu possa sentirmi perché c'è un vento piuttosto forte e quindi potrebbe disturbare l'audio. Allora, quando tu ti senti bloccato e ti trovi in uno schema dove non riesci a muoverti, dove non riesci a fare nulla, magari stai cercando di far emergere un progetto nella tua vita, di far venire fuori una nuova idea per creare qualcosa di bello, qualcosa che magari senti mancarti. È come se dovessi tirare fuori qualcosa ma non riesci a farlo. Allora, il mio suggerimento di oggi è proprio questo. Non stare in ufficio, non stare a casa davanti a un tavolo perché lì sicuramente l'energia non si sbloccherà. Sei in un ambiente in tanto comune che tu frequenti tutti i giorni e ti trovi anche in un ambiente in cui si è creato magari il blocco. Quindi, quello che ti suggerisco è muovi l'energia, esci di casa, vai a fare una lunga camminata senza pensare a nulla, vai a vedere magari anche un posto nuovo, può essere anche semplicemente un parco vicino a casa, vai in una zona gradevole, potresti anche fare un'escursione di una giornata, proprio con l'intento di lasciare andare tutti i pensieri, vedere un nuovo ambiente, fare una nuova esperienza, cambiare proprio energia. E proprio per quel tempo lascia andare completamente tutti i tuoi pensieri. Lascia andare il progetto, lascia andare il pensiero di dover fare qualcosa di nuovo, di dover trovare una soluzione. Esci, muovi il tuo corpo, vai in un posto nuovo e lascia che la tua esperienza sia il tuo stimolo. Ok? Quindi cambia l'energia, muoviti, puoi anche andare a fare dello sport, sicuramente può essere una buona cosa. Può esserti anche utile prenderti del tempo dove sei da solo. Infatti il fatto proprio di prenderti del tempo per te, il tuo spazio, ti consente proprio di entrare in un... in uno spazio magico proprio, dove tu sei solo col tuo corpo, puoi essere nel presente, perché quando muovi il corpo è facile che tu possa sperimentare la presenza. Goditi un ambiente nuovo che ti permette di essere maggiormente presente e lascia che questo sia il tuo stimolo. Mentre tu fai tutto questo che sembra non entrare in niente, non avere niente a che fare con la risoluzione del tuo problema, con il progettare qualcosa di nuovo nella tua vita, ebbene, tu hai mosso la tua energia e questo può creare un grande stimolo. Quindi ti suggerisco questo oggi. Pensa a una delle situazioni che vorresti cambiare nella tua vita, ad uno dei problemi, dei punti che vorresti risolvere, uno degli ambiti della tua vita che vorresti migliorare. Esci di casa e fai qualcosa, fai una passeggiata, vai a fare, non so, se giochi a tennis, vai a giocare a tennis, oppure un'altra cosa. L'importante è che tu smuovi l'energia, che tu vada in un posto possibilmente nuovo e che ti permetta di fare questa esperienza. Nel momento in cui tu avrai più tempo, potrai magari prenderti una mezza giornata, una giornata intera, e vedi che cosa accade. Bene, fai questo esperimento e nei prossimi giorni posta sotto questo video qual è stato il tuo risultato, che cosa ti ha stimolato questa esperienza e quanto può essere utile nella tua vita. Ok? Ti mando un abbraccio fortissimo dalla Costa del Sol, dove finalmente il sole splende. E a prestissimo! Ciao! Ciao!